Foscarini si occupa di design nell'illuminazione decorativa italiana. La caratteristica principale della quale godiamo ampiamente è la libertà di scegliere le cose che riteniamo possono diventare alfieri della nostra proposta e anche della nostra immagine, del nostro posizionamento. La libertà che abbiamo nello svilupparle, la libertà che abbiamo nelle relazioni con i designer, la libertà che abbiamo nella scelta dei materiali e delle tecnologie per realizzarli. Formidabile scambio di creatività. Design, luce e passione. Rosso Jets Futuro che conosce il passato Funzione che crea la forma Uno, due, tre, hop! Ciao! Ciao! Alla prossima! Bye! Ciao Foscarini, vi voglio bene!